Sopravvivere al carcere nonostante il carcere, questo è il tema dell'ottava edizione del campus giornalistico intitolato dal giornalista Rai Roberto Morione, prematuramente scomparso e organizzato da Libera e dal presidio ovadese Antonio Landieri, di cui è referente Anna Bisio. La scelta di questo tema, intanto perché è un tema di attualità, anche per tutti i processi che ci sono in corso, come ad esempio la vicenda di Stefano Cucchi, e poi è un tema che hanno scelto i ragazzi che hanno partecipato l'anno scorso e alcuni di loro sono presenti anche quest'anno, l'hanno scelto loro il tema, quindi ci sembrava giusto come presidio ma anche come amministrazione comunale che ci dà una grossa mano rispettare la scelta dei ragazzi che hanno partecipato la scorsa edizione. Il tema è stato analizzato in tutti i suoi aspetti nel corso della due giorni con la presenza di esperti e di tanti studenti interessati. L'abbiamo diviso in più sessioni, la sessione di questa mattina è tutto il mondo fuori e proprio in questo momento via online l'intervento di Alessandra Ballerini, avvocato, giornalista specializzata in diritto dell'immigrazione, diritti civili e della persona, attualmente è legale della famiglia di Giulio Regeni ed è consulente legale di organizzazioni come Amnesty International e tante altre. Interessanti poi gli interventi del giornalista Marcello Zinola, dell'Associazione Betel di Alessandria e di Chiava Gavone di Libera. Nella seconda sessione, intitolata Libertà personale e sicurezza sociale, conflitto insanabile, sono intervenuti il dottor Lorenzo Fabris, giudice al Tribunale dei Minori di Genova, il professor Massimo Ruaro, docente di diritto penitenziario all'Università di Genova, Gerardina Paravedino di Libera, Salvatore Ingui, direttore dell'Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni e nonché coordinatore provinciale di Libera di Trapani. Nella terza sessione erano previsti lavori di gruppo, supervisionati da Salvatore Ingui, Paolo Asultana e Andrea Vignoli, a cui è seguita la consegna degli attestati di partecipazione. L'iniziativa è stata accreditata dall'Ordine dei giornalisti e da quello degli Avvocati.